Ci sono 30 secondi e poi parte da uno e va fino a 36 minuti. Io proverei a fare un'intera esecuzione, arriviamo in fondo un po' mezzi disastrati. Non importa, ma per capire come funziona la cosa. Intanto proviamo a fare una, vediamo cosa succede. Alla seconda crisi isterica mi fermo, alla prima notte. Io non concepisco una vita senza musica, quindi per me è come il pane. Non concepisco non mangiare, non concepisco non ascoltare qualcosa. E questo qualcosa però deve essere in qualche modo inquadrato, secondo non un'attesa tanto dominante, ma anche una sorpresa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.